buongiorno a tutte e tutti e benvenuti al video di presentazione del corso di laurea magistrale in ingegneria gestionale con me oggi c'è giulio mangano buongiorno giulio buongiorno federico bentrovati l'obiettivo di questo breve video è quello di descrivere a chi ci segue le caratteristiche principali del corso in ingegneria gestionale cercando il più possibile di anticipare le domande più frequenti che riceviamo dagli studenti esatto giulio iniziamo subito con una delle domande più ricorrenti riguardo all'obiettivo finale quale tipo di figure professionali sono formate dal corso i 500 ingegneri gestionali che ogni anno si laureano al politecnico di torino trovano occupazione in diverse realtà aziendali questo perché il percorso prevede una formazione multidisciplinare infatti l'obiettivo è quello di formare un laureato culturalmente preparato sul fronte tecnologico e su quello economico manageriale capace di gestire l'innovazione nei prodotti e nei servizi il fine è creare una figura professionale di alto profilo in grado di intervenire effettivamente nelle decisioni strategiche e tecnico operative che influenzano la competitività di imprese e organizzazioni operanti in contesti caratterizzati da elevate innovazioni nonché da una marcata complessità tecnologica e di mercato l'ingegnere gestionale può occupare posizioni manageriali in imprese manifatturiere dei servizi nella consulenza direzionale in banche e istituzioni finanziarie e in specifiche aree della pubblica amministrazione i principali sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati magistrali in ingegneria gestionale riguardano svariati ambiti legati alla gestione operativa e strategica nelle imprese tra i più importanti sbocchi diamo evidenza di gestione dell'innovazione di prodotto pianificazione del ciclo di vita di prodotto di servizi la gestione dell'attività operativa di impresa la gestione dei sistemi informativi a supporto dei processi operativi di controllo aziendali la pianificazione finanziaria e il controllo di gestione e la pianificazione strategica poi Federico per chi fosse interessato esiste anche la possibilità di proseguire e approfondire ulteriormente la formazione sì la maggior parte dei laureati trova occupazione al termine del proprio percorso ma alcuni studenti decidono di proseguire e i percorsi post laurea disponibili sono principalmente quelli dei master di primo livello e in apprendistato e il percorso di dottorato in gestione produzione design i master principalmente sono legati a tematiche riferite a industria 4.0 come l'additive manufacturing e i processi di trasformazione digitale inoltre hai accennato prima alla versatilità degli ingegneri gestionali e questo ci torna utile per chiarire quale sia l'offerta formativa della laurea magistrale nelle slide che vi mostriamo sono elencati diversi indirizzi che sono disponibili agli studenti nei due percorsi di italiano in inglese tutti i percorsi hanno dei corsi in comune e altri corsi che sono caratterizzanti l'obiettivo è quello di creare delle competenze trasversali e delle soft skills che sono utili alla comprensione della complessità e della gestione della tecnologia gli studenti riceveranno una formazione su argomenti legati all'analisi della struttura dei mercati sotto il profilo economico e giuridico alla gestione di progetti di sviluppo di nuovi prodotti la gestione della qualità e legati alla strategia di impresa i diversi indirizzi disponibili vanno incontro alle esigenze del mondo del lavoro e si distinguono appunto nelle due macro aree di percorsi in italiano in inglese tra i percorsi in italiano segnaliamo la gestione dell'innovazione dell'imprenditorialità ICT e data analytics per il management supply chain e sistemi di trasporto industria 4.0 gestione e progettazione dei servizi e poi disponibile anche il percorso finance che è caratterizzato da corsi in inglese che è disponibile anche per i percorsi in inglese gli altri indirizzi disponibili per chi affronta interamente in lingua inglese il percorso della laurea magistrale sono innovation management entrepreneurship sustainable production technology and social change management of sustainability and technology in aggiunta a questi percorsi tutti gli studenti hanno l'opportunità di partecipare a un'esperienza di tirocinio questa scelta è molto apprezzata dagli studenti per cui il 70 per cento di loro inizia questo percorso per anticipare la comprensione delle dinamiche e delle logiche aziendali interagendo con una delle 500 aziende che abbiamo ospitato che ospitano i nostri tirocinanti in Italia e all'estero e a proposito di esperienze all'estero Giulio quali sono le opportunità di mobilità internazionale? Naturalmente per i nostri studenti c'è la possibilità di partecipare a programmi di scambio con molte università estere e di aderire a programmi di doppia laurea doppia laurea in azioni europee del nord america e del sud america con progetti speciali che via via sono attivati nel resto del mondo oltre ovviamente ai programmi dell'unione europea erasmus ed erasmus mundus e a proposito di questo vale la pena sottolineare che a sostegno di queste iniziative sono previste ogni anno circa 20 borse di studio dobbiamo aggiungere altro Federico? Ma abbiamo detto quasi tutto ci rimane ancora da riportare quello che è diciamo il feedback degli degli studenti ossia i risultati in termini di soddisfazione del percorso scelto nel 2019 è stata condotta un'indagine su più di 200 laureati in ingegneria gestionale e più del 90 per cento si è ritenuto soddisfatto di questo percorso e il 90 per cento sceglierebbe nuovamente ingegneria gestionale. Con questo vi abbiamo detto tutto vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordiamo che tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito del Politecnico di Torino e anche sul portale degli Open Days. Grazie, grazie a voi e grazie Giulio. Grazie Federico, a presto. Arrivederci.